Mister Toscano al termine di Vicenza fra Alpi Salo 1 a 2, una vittoria importante, la seconda nel giro di quattro giorni serve a rilanciare l'entusiasmo. Serve soprattutto ad avere più consapevolezza del proprio valore, delle proprie qualità. E oggi la cosa che mi è piaciuta il più rispetto alla partita con la Ternana dove abbiamo fatto anche delle buone cose, la consapevolezza, la personalità di affrontare una squadra importante in uno stato importante, di volere portare a casa un risultato importante, voluto e cercato e meritato e l'hai portato a casa, questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Poi c'è sempre da migliorare, secondo me c'è ancora delle immagini di miglioramento con questa squadra, però questo è l'atteggiamento giusto, questa è la voglia giusta, questa è la consapevolezza giusta. Che cosa è che è cambiato che non c'era magari prima? Ma no, soprattutto la presa di coscienza che volevamo fare meglio del giurale d'andata, perché non avevamo andati sotto le nostre aspettative. Abbiamo fatto dei correttivi dove si poteva migliorare questa squadra, dare la possibilità di crescere tutto l'organico cambiando qualcosa, sono stati bravi i nuovi a inserirsi bene, sono stati bravi il gruppo a farli inserire bene. Sono tante cose messe insieme che hanno fatto sì che questo gruppo crescesse, però ancora non si è fatto niente, siamo ancora all'inizio, bisogna goderci questa vittoria importante, pensare già a termo perché ci aspetta un'altra gara difficile.